ciao addicted eccoci qui con la look fantastic di aprile un po in ritardo mi perdonerete in attesa di quella di maggio vediamo subito in che cosa consiste intanto vi dico che l'abbonamento di look fantastic è un abbonamento mensile che potrete fare o singolarmente oppure appunto con formula 36 e 12 mesi troviamo sempre il giornalino bellissimo di look fantastic con la spiegazione di tutti i prodotti che troviamo all'interno e con il lo sneak peek del prossimo prodotto che troveremo all'interno della box di maggio che è appunto di rituato del rituale of karma ed è un wow un olio per il corpo brillante direi da non perdere ma andiamo ad aprire la look fantastic ah non vi ho detto la cosa più importante io questa box l'ho presa solo i 5 euro perché perché ogni tanto look fantastic fa queste promozioni cioè da dei codici attraverso i quali potete prendere la box singola oppure fare degli abbonamenti prendendo la prima box a 5 euro quindi se volete essere sempre aggiornati e sapere quando questo sarà possibile vi consiglio di entrare nel nostro gruppo box addicted su facebook e di rimanere sempre aggiornati sui nostri canali youtube e instagram ma andiamo a vedere questi prodotti naturalmente parto dal mio preferito di molton brown se riesco a metterlo a fuoco oggi eccolo qui e voli ginger ale button shower gel shower gel che è appunto un gel da doccia tra quelli i miei preferiti sono sincera diele miss wow wow un toner all'albicocca da 50 ml calmante calmante we go on and philip kingsley un ricco gestore inconditioner quindi un balsamo riparatore per i capelli da 20 ml diverso un siero idratante con niacinamide una sostanza che se non mi sbaglio è ottima anche per quanto riguarda i punti neri per eliminare i punti neri o un brand che ci piace tanto di avant avanti aspettate acido ialuronico con buonissimo e un libalm un balsamo per le labbra con burro si di ara che ti stavo dicendo con cacao sciabatte tocco ferolo e argan per 10 ml per riempire e rimpolpare le vostre labbra infine di australian body care il tea tree oil ragazzi è concentrato che ottimo non solo per i punti neri ma per disinfettare anche il viso fate attenzione a non usarne molto perché un po le metterò a fuoco perché appunto può essere aggressivo quindi dosatelo bene quindi ecco qui questa è la look fantastic del mese di aprile in attesa di quella di maggio nella quale abbiamo trovato come vi avevo detto di avant acido ialuronico e altri ingredienti un lip balm diverso un siero idratante con niacinamide di philip kingsley un booster per i capelli dopo shampoo di elemis un toner all'albicocca di australian body care un olio al tea tree l'albero del tè e infine di molton brown un gel da doccia o da bagno heavenly ginger quindi al ginger vi ricordo di iscrivervi nel nostro gruppo per avere novità riguardo appunto gli abbonamenti di look fantastic io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo con la prossima box tra qualche settimana ciao